ciao allora oggi vi voglio parlare di questo ombretto in matita del livre rocher si chiama ombre life proof resistente a tutte le circostanze dice è un 1,4 grammi ed il prezzo è 12 95 euro ma comunque è un prezzo scontabile quindi io lo prendo sempre con lo sconto almeno del 40 per cento ve lo mostro che è questo il colore che ho io è il 08 top e poi si presenta comunque in matita e di quelle automatiche quindi che vanno avanti ma come vedete l'ho proprio finito e sono andata col pennellino a pescare l'interno oltretutto di qui c'è il temperino quindi se vogliamo avere la punta più appuntita la punta più appuntita è perfetto e neanche caduto ma fa lo stesso comunque c'era il temperino aspettate allora parola d'ordine professionalità perché l'ho proprio disperso dopo lo raccoglierò lo troverò comunque si andiamo avanti con la recensione che è importante allora questo prodotto avete visto anche dalle video shopping che l'ho acquistato e riacquistato perché perché mi piace tantissimo allora intanto si stende bene è bello morbido si applica bene non non va a grattare la palpebra o non va a irritare e poi asciuga velocemente quindi nel caso che volete sfumarlo fate un occhio poi lo sfumate e poi fate l'altro perché sennò si fissa io lo trovo ottimo da solo perché lascia un bel colore per avere una base oppure proprio come base per l'ombretto perché essendo un po colorata e fissandosi bene è ottimo anche come base ed effettivamente migliora la tenuta degli ombretti e tende anche a renderli più come si dice più vistosi perché comunque un colore abbastanza scuro e quindi si notano di più questo sicuramente è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo e che continua a comprare adesso in inverno magari con altre colorazioni un po più chiare da usarlo come base ma davvero dura tanto cosa importante la durata ovviamente allora una volta fissato dura tutto il giorno e la sera dovete andarlo a struccare si l'ho provato con il caldo estivo e ha durato sempre fermo lì ed se mi lacrimavano gli occhi o comunque sia tendeva come si dice tendevano a lacrimarmi gli occhi mettiamola così non si spostava quindi davvero ottimo oltre che sei da solo magari ci applicavo sopra un ombretto in polvere così si fissava proprio del tutto e che restava lì fino a sera da mattina a sera poi è comodo da applicare anche se siamo di fretta mattina lo applichiamo lo sfumiamo anche con le dita ed è fantastico quindi è un prodotto che io vi straconsiglio ora ve lo mostro da vicino che è questo qui comunque io ve lo straconsiglio perché mi ha davvero rivoluzionato sia il trucco veloce di tutti i giorni se i trucchi più elaborati sia come tenuta degli ombretti quindi promossissimo fatemi sapere se per caso avete provato questo prodotto e come vi siete trovate io come sempre spero di essere vista utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così vi verete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e la prossima ciao